Vi stai preparando per ieri, terza tappa di Coppa del Mondo. Mattia, lunedì si inizia, cosa ti aspetti? Dopo la regata di Palma di Mallorca che si è conclusa positivamente per me, mi aspetto di continuare a gareggiare come ho fatto a Palma di Mallorca, cercando di rientrare sempre nel primo 30% che è l'obiettivo che ci mette la federazione e ce la metteremo tutta e speriamo in un buon vento. Mattia, cosa hai imparato dalla tappa precedente e cosa dovrai cercare di migliorare in vista di questa nuova avventura? Diciamo che è stata la prima vera tappa di Coppa del Mondo di quest'anno, abbiamo visto che il livello è veramente alto, quindi c'è da stare attenti, da concentrarsi soprattutto nei primi due giorni in cui la flotta poi verrà divisa in gold e silver, quindi dopo i primi due giorni di qualificazione ci sarà la divisione e l'obiettivo principale appunto sarà rientrare in gold, ma sarà un obiettivo non facilissimo e quindi dovremo restare molto concentrati i primi due giorni. Anche per te, insomma, la partenza cosa ti aspetti da questa tappa francese? Ok, questa qua è la terza tappa e credo che anzi il livello sia ancora un filo più alto di quello rispetto a Palma, però come sempre il nostro obiettivo è fare il meglio possibile. Per quanto riguarda i momenti più difficili che avete trovato nella tappa precedente, su cosa bisogna lavorare? Eh, allora, molta concentrazione e poi il livello è molto alto, quindi poi meno sbagli, perché appena sbagli un attimo là non riesci a recuperare molto. Cioè, sono molti altri persone che hanno il tuo stesso livello oppure un filo più alto e quindi meno sbagli possibili per stare là davanti. Dal punto di vista del vento, che vento speri ci sia? Allora, a me piace anche il vento forte e in Francia, la Francia è molto nominata per il maestrale, quindi è possibile che faccia un po' di maestrale e magari ci va anche divertire. Un obiettivo? L'obiettivo è sempre entrare nella gold, è il numero sempre più basso. Veroni, che vi starei preparando per la partenza per ieri, terza tappa di Coppa del Mondo, cosa ti aspetti e quali sono gli obiettivi? Come hai detto tu, questa è la terza tappa di quest'anno di Coppa del Mondo in Francia e speriamo di concludere questa tappa meglio della seconda tappa di Palma, quindi non parlo proprio di risultati specifici in classifica, ma insomma di tornare a casa più contenta di com'è andata la regata. Veroni, che insegnamenti da Palma di Mallorca? Su cosa c'è da lavorare di più? Beh, guarda, è un punto mio debole che non è stato solo a Palma, ma lo è un po' da sempre, sono le partenze. Ovviamente sbagliando le partenze e stando con quelle grandi non c'è poca possibilità di recupero, quindi quello sarà sicuramente un punto da rivedere. Per quanto riguarda il livello, Veroni, che cosa ti aspetti da questa tappa? Insomma, il livello sarà alto come a Palma di Mallorca? Il livello sarà sicuramente alto come a Palma di Mallorca, ho visto gli iscritti e siamo sempre tanti e bravi, quindi sarà molto simile a Palma. Grazie a tutti.